Chiaramente ribadisco il voto favolevole della maggioranza 5 Stelle e spero anche delle opposizioni. Ripeto, sono linee di indirizzo, parliamo di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di Roma Capitale che sono utili per altri siti sempre di Roma, che fanno parte di Roma Capitale, in cui c'è una richiesta. Guardate, tutt'oggi ci sono già altre richieste per terre, c'è fame di terra a Roma Capitale. Quindi facciamo in modo che si inizi da qui a lavorare perché si abbia questo utilizzo delle terre, come le chiamo io, buone, cioè quelle che sono state caratterizzate, che si possono usare, per far sì che invece non vadano ad appesantire le discariche. Grazie.